Kazakistan, terra di opportunità. Più di 3.000 anni fa, un'antica popolazione lasciò delle incisure impestri nel territorio dell'attuale Kazakistan. Quindicesimo secolo, fondazione del canato di Kazak, ad opera di Henry Kahn e Schliebeck Kahn. I Kazaki emergono come conto etnico autonomo. Grazie a tutti. 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 di Kazak entra a far parte della Russia zarista. I Kazaki conducono ancora una vita duvide. Nel 1920 il Kazakistan diventa una delle repubbliche dell'Unione Sovietica. Nel 1991 il Kazakistan dichiara la propria indipendenza e sovranità. E' l'alba di una nuova era. Astana Expo 2017 Futuro Energia 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 Benvenuti nel padrone del Kazakistano.